Le vaccinazioni anti-covid per gli ultraottantenni inizieranno in Puglia a partire dal 22 febbraio. A loro sarà somministrato vaccino Pfizer o Moderna. Da giovedì 11 febbraio sarà possibile effettuare le prenotazioni in farmacia presentando la tessera sanitaria fisicamente o su delega, senza prescrizione del medico tramite il sistema Pharmacup. Le parole dell'assessore regionale alla sanità Pierluigi Lopalco segnano il via ideale della fase 2 della campagna vaccinale anti-covid in Puglia. Entrando nel dettaglio dello sviluppo della fase 2, Lopalco ha spiegato che ci saranno agende diverse per gli ultraottantenni che effettueranno il vaccino in ambulatorio e per chi dovrà farlo a casa. Tali agende terranno conto della prima e della seconda somministrazione. Ultraottantenni e non solo. Dal 15 febbraio si inizierà con le prenotazioni per i vaccini AstraZeneca degli operatori scolastici e dei componenti delle forze dell'ordine. Le vaccinazioni di insegnanti e operatori delle forze dell'ordine saranno gestite direttamente dalle rispettive amministrazioni. In attesa del via alla fase 2, i numeri parlano di 141.889 dosi somministrate fin qui a operatori sanitari, ospiti di RSA, odontoiatri, medici di libera professione. La fase 1 si completerà con la vaccinazione anche dei farmacisti. Ad oggi sono circa 60.000 gli immunizzati nella nostra regione.